La Madonna che esce dalla sua nicchia, che viene ripulita e che tra i canti di preghiera dei fedeli viene posta in alto di fianco all'altare. L'intronizzazione della Madonna della Fontana all'interno della Basilica Minore segna l'inizio delle celebrazioni per la Santa Patrona. La gente sente l'importanza di questo momento proprio perché la Madonna viene esposta a tutto il popolo di Dio. Tutti possono vederla, pregarla, invocarla senza andare magari vicino alla nicchia. E come dicevo ha questo significato profondo, cioè la nostra patrona che non solo ci custodisce ma viene incontro alle nostre necessità. E' lei che lascia cioè il suo luogo, la sua casa, la sua nicchia per andare incontro al popolo. Un momento quindi di grande trasporto emotivo, di suggestione, di rinascita e festa sia e festa sarà.